Ciao, oggi siamo a Campo Canoa, alle mie spalle la città di Mantua, la città nella quale sono candidata, nel collegio senatoriale per la coalizione di centrodestra. E guardando quest'acqua e pensando allo sport che amo di più, il canottaggio, voglio dirti che sono qui per impegnarmi per l'Italia, sono qui per remare a favore dell'Italia e non contro, come hanno fatto gli ultimi governi. Ciao!